Vai. Dopo una settimana a disposizione al pubblico, la Coppa arriva in sede, la Crosse. Grazie. Grazie. Dove viene posizionata? Dove viene posizionata? Dove viene posizionata? Sulla maglia. No. Quindi ma dormite. In vetrina, attenzione. Mettila a posto di questo. Eh ma non si vede lì, Laura. Non si vede perché è in vetrini. Si vede sia da lì, sia da lì. Secondo me si vede meglio qua. No. Ok, se lì no, Laura. Prova a metterla lì. Proviamo a metterla qua. Non si vede perché. No, 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 guarda che forse la torghetta. Con di questo. Inclinala. Aspetta. Così va bene? Si vede sia fuori che quando avremo la cinta. Va bene. Mi hai detto. Facciamola così. Dobbiamo mettere che il quadretto si andrà solo... Ok. Maison del Mobile, campione.